Buona giornata dal Corriere di Sciacca. Oggi è lunedì 2 gennaio 2023. È finita nel sangue una festa di Capodanno organizzata in una discoteca a Vittoria. Un giovane nordafricano è stato ucciso da un gruppo di romeni. È stato colpito con delle spranghe e poi con un coltello serramanico. Il corpo è stato ritrovato dai carabinieri avvertiti da alcuni testimoni all'ingresso del locale, abituale luogo di ritrovo dei tanti migranti che vivono e lavorano nelle serre tra Vittoria e Cate. I carabinieri hanno fermato tre romeni, uno due dei quali minori. Notte e giorno di Capodanno tranquilli in provincia di Agrigento non risultano feriti da botti e nemmeno incidenti stradali di rilievo. A riferirlo è stata la Questura che con le altre forze dell'ordine ha coordinato l'attività di controllo e di prevenzione nella città e nelle strade urbane. I divieti di esplodere e botti che in parte dei comuni sono stati oggetto di apposite ordinanze e la scelta di non fare svolgere fuochi d'artificio nelle piazze fatte in alcuni comuni sono forse serviti per evitare incidenti. Ad Agrigento grande successo per il concerto di Achille Lauro in piazza Stazione. Circa 10.000 persone hanno scelto la città dei templi per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Non si sono registrati incidenti nei disordini. Il cantante è stato anticipato sul palco dall'Ello Analfino e i tintoria che hanno intrattenuto e fatto divertire il pubblico di casa. Il 2023 è cominciato con due nuove scosse di terremoto in Sicilia. Dopo quelle di ieri nel Catanese e questa mattina altre due in provincia di Messina, entrambe si sono verificate in mare. La prima alla 3.55 dalla sala sismica dell'INGV di Roma è stata registrata nella zona delle isole Eolie. Poco dopo alle 4.35 un'altra scossa nella costa siciliana nord-orientale nel Messinese. Il terremoto è stato di magnitudo 2.2 ad una profondità di 120 km. Il primo parto del 2023 in Sicilia è avvenuto a Catania dove Hillary Electra è venuta al mondo appena un secondo dopo la mezzanotte all'ospedale Garibaldi. A Palermo invece i primi bimbi venuti alla luce sono stati in due strutture un minuto dopo la mezzanotte. Uno al Bucchieri Laferla, l'altro a Villa Serena. In provincia di Agrigento, primo nato Vincenzo Fallea è venuto alla luce alle 9.52 all'ospedale San Giovanni di Dio. I genitori sono di Favara. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, buona giornata, appuntamento a più tardi. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro nuovo numero Whatsapp.